Ciao a tutti ragazzi Togliti questa cosa di merda No aspetta facciamo pensare di così dai Allora bella a tutti ragazzi Io sono un'anzitata insieme a me Come potete vedere c'è questo scemo di tre Ciao a tutti ragazzi Ecco E allora Siamo messi in una posizione scomodissima però Esatto perché non sappiamo come poter registrare Non fate caso se non guardate la camera Ma è perché per vedere come veniamo Più che altro Esatto Perciò magari forse a De Rex Non è vero perché gli occhiali deve fare il cretino Perciò non guarderà mai la telecamera E allora ragazzi Vorremmo Scusi io ci sono pure Ecco così non è vero Perfetto Mi devo rompere Allora una cosa veloce ragazzi De Rex non vi dovrebbe parlare del tuo canale Perché oggi siamo sul tuo canale Allora io Non so Siccome siamo sul tuo canale Tenitolo tu il telefono anche se il mio Allora Mi ricordi che cosa dovevo dire Allora ragazzi Assassin's Creed se non mi sbaglio Allora ragazzi io lo so che Voi grazie Mi stavano cominciando a dare fastidio Allora ragazzi E' da tanto che non faccio Assassin's Creed E' da tanto che non faccio Assassin's Creed ragazzi Quindi Ti stai fai a molla Voi Dovete dirmi Cioè allora Sotto questo video Che metteremo non so quando Sotto questo video Voglio Quante mi piace Diciamo No sono un tot di mi piace Voglio ragazzi sotto questo video voglio 15 mi piace per il prossimo video che farò di appunto Assassin's Creed E niente 15 15 solo Ok a posto 15 mi piace Perfetto E' un non mi piace Se non trovo 15 mi piace E' un non mi piace Non faccio Assassin's Creed E mi raccomando Ma hai parlato di quale Assassin's Creed Revelation Revelation Ah beh lo sa Pure con te Sto occupando La camera di merda Non ti preoccupare Perfetto Ora mi piace di più Vediamo il nostro Rexen Che fa il creatino Allora ragazzi Mi sono i pantaloni di tua sorella No mi hai Ah ok Mi raccomando 15 mi piace E un non mi piace Perfetto Non devi dire più niente Sicuramente lo metterò io E il non mi piace Non devi dire più niente No niente No perfetto Allora ragazzi Tu che cosa devi dire No niente Perfetto Allora ragazzi Il video finisce qui Commentate Condividete Iscrivetevi al canale Lasciate il mi piace Mi raccomando E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Bella Buh